Le fake news hanno un impatto molto importante nella nostra vita in qualsiasi ambito, creano panico, possono impattare sulle immagini, quindi dobbiamo dare tutti gli strumenti per permettere alle persone, a partire dai più piccoli, dai ragazzi, per riuscire a vivere questa rete e tutti gli aspetti della nostra vita in modo consapevole e responsabile. Parole Ossini sta portando avanti una battaglia da tempo, quali sono i programmi in cantiere? Sono tantissimi, diciamo che più che battaglia ci piace vederla come un percorso che è iniziato nel febbraio del 2017, che sta abbracciando sempre più ambiti della nostra società. Quello che ci piacerebbe vedere, anche alla luce di quello che abbiamo discusso oggi, è vedere espandere sempre di più questi percorsi educativi, abbiamo appena concluso e stiamo per lanciare un videocorso per gli insegnanti, riuscire davvero a portare questo percorso di formazione in ogni ambito della società. Ci saranno presto delle notizie dal punto di vista della pubblica amministrazione, perché sempre più città stanno seguendo il manifesto della comunicazione in uno stile e questo è un messaggio forte perché comunque crea conoscenza, crea ancora una volta la consapevolezza che serve per cambiare le persone e fare in modo che questa rete ci rappresenti sia un posto davvero bello in cui stare.